Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti per il ripristino del fondo stradale tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Roma. Sulla statale un'Aurelia chiuso lo svincolo di Gavorrano per il passaggio della terza tappa della Tirreno Adriatico. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola ci sono code per traffico intenso tra Badia, Arripoli e Pontassieve in entrambe le direzioni. Code causate dalla chiusura per una frana della provinciale 34 di Rosano tra Vallina e Le Gualchiere di Remole. Sul raccordo Siena-Firenze chiusa una corsia per lavori tra Colle Valdelsa Nord e Poggi Bonzi in direzione Firenze. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!